Il dato forte saluti per il Consiglio, il Consiglio è anche da fare una conversazione con noi ed è che dire, è stata molto sentita perché abbiamo cercato in più occasioni, con vari incastri di stampa seriolo e siamo riusciti appunto a organizzare una mostra molto importante perché è il 100 quadri che credo che non avrebbero mai visto in piedi. E che dire, che mi piace molto l'idea di dare un contributo a quello che comunque è una visione tante volte è errata, è dire che mi piace molto contribuire a tutti.